La vendita dei gelati sulle mura urbane di Lucca è disciplinata da un bando dell'Opera delle Mura. Le autorizzazioni concesse saranno al massimo tre. E' in queste due pagine pubblicate sul sito internet dell'ente che si concretizzano le paure di Marco Biancani, l'uomo che sei anni fa ha riportato il gelato sull'alborato cerchio grazie al suo carrettino. Dopo l'appello alle nostre telecamere, due settimane fa Biancani aveva incontrato il sindaco Tambellini. Dal primo cittadino era arrivata la rassicurazione, apriremo il mercato anche ad altri ma intanto vai pure, gli avrebbe detto a Palazzo Orzetti. Marco però non ha cominciato perché non aveva ricevuto la risposta scritta ufficiale. Con questo bando che è stato diciamo fatto, ho letto stamani sul giornale, non lo so se entrando a lavorare non mi fermano e mi fanno una multa ecco. Biancani parteciperà al bando che prevede l'ideonità alla vendita tramite un carrettino attrezzato e un'offerta economica a rialzo a partire da 800 euro. Ma il bando scade il 26 marzo e dunque in caso di vittoria potrebbe cominciare il primo aprile. Troppo tardi per le sue finanze ecco perché vorrebbe avere l'opportunità di lavorare senza questo weekend come aveva programmato dopo l'incontro con il sindaco. A questo punto solo Tambellini o l'Opera delle Mura possono intervenire per una deroga. Spero che il sindaco accolga la mia richiesta, dice, perché non posso più andare avanti.